Ciao a tutti da Vittorio, tempo di bilanci per cui in questo video voglio dire quello che secondo me è stata la delusione della stagione in casa Lazio. Ciao a tutti da Vittorio, tempo di bilanci fine 2021 e tempo di decidere chi è stata la delusione del 2021. Credo che mai come quest'anno ci siano tanti pretendenti per questo ruolo, però possiamo votarne solo uno. Sicuramente merita una menzione Matteo Musacchio, arrivato a gennaio doveva coprire il buco del difensore centrale mancante, questo felipe è infortunato, la Lazio ha numericamente bisogno di un difensore centrale, arriva Musacchio dal Milan, era stato acquisito a 1.018 milioni ma Coppioli era finito praticamente fuori rosa, arriva con esperienza, con grande fiducia, Musacchio giocherà pochissime partite facendo anche molto male. Rapidamente Musacchio sparisce. Dopo l'errore contro il Bayern Monaco praticamente non l'abbiamo più visto, uno dei peggiori acquisti di gennaio della gestione Lotito. Inzaghi non gli dà praticamente più una chance, piuttosto fa giocare Patrick, ma Musacchio non si vede. Ovviamente il prestito non viene rinnovato, Musacchio fine contratto lascia la Lazio praticamente senza neanche farsi notare. Musacchio purtroppo. Merita una menzione ma secondo me non può essere letto delusione dell'anno. Un'altra menzione al merita anche Wesley Hood purtroppo, altro difensore centrale preso per tappare il buco del difensore centrale, buco mai tappato in realtà. Wesley Hood parte bene, secondo me fino a dicembre le sue prestazioni sono buone, ovvio non parliamo di Alessandro Nesta però prestazioni decenti, accettabili assolutamente. Poi arriva l'Atalanta, la partita in Coppa Italia, Hood sempre pericoloso nelle sue scivolate, in aria però sempre in grado di prendere la palla ed evitare il rigore. Contro l'Atalanta invece prende il giocatore pieno, calcio di rigore e l'Atalanta vince in Coppa Italia, passa il turno. Da là Wesley Hood, un po' come Matteo Musacchio un mese dopo, non vedrà praticamente più il campo. Le sue prove iniziano ad essere deludenti, Inzaghi capisce che il giocatore si è perso e non lo farà praticamente più giocare, in campo gioca Patrick. Hood, delusione, anche lui a giugno non verrà riscattato perché era la Lazio in prestito, andrà all'Underlec dove sembra sia andando meglio che a Roma. Delusione, Hood, fino a un certo punto io non mi aspettavo tantissimo, pensavo qualcosa di più onestamente, ma definirlo delusione è un po' eccessivo. E allora chi vince il premio delusione? Beh, per me vedrà, morisci. 18 milioni per un giocatore che praticamente non ha mai giocato titolare, per un giocatore che sia con Inzaghi sia con Sarri non è mai stato ritenuto all'altezza, un acquisto che sa di mistero perché se tu vai a spendere 18 milioni per un giocatore che il tuo allenatore non voleva perché Inzaghi non l'ha mai fatto giocare, allora chi ha deciso di acquistare un giocatore del genere? Io non credo che Morici sia scarso, credo che però la Lazio debba giocare in un modo differente e Morici deve sentire la fiducia dell'allenatore, cosa che non sente. Con Inzaghi non ha mai avuto una chance, con Sarri poco più, anche con Sarri è rapidamente finito ai margini, tant'è che quando non c'è immobile gioca o Felipe Anderson o Pedro Falzonuofe. Un acquisto deludente, un acquisto inspiegabile perché se non voleva il tuo allenatore perché il sei andato a prenderlo, 18 milioni buttati nel cesso e per la Lazio 18 milioni sono tantissimi, per cui Morici stravince il premio delusione dell'anno. Questo almeno per me. Voi, qual è il giocatore delusione dell'anno? Scrivetelo nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima. Grazie.